Ringrazio ovviamente innanzitutto chi ci ospita, cioè l'amministrazione comunale, il sindaco con l'assessore alla cultura Chiappardo e poi insomma tutti gli intervenuti, i procuratori russi, olivieri, l'associazione di giornalisti del Vallo Idiano che come sempre diciamo da una mano. Noi saremo anche di nuovo nei prossimi mesi, quasi certamente il 18 maggio a Sassano e poi il 4 giugno a Casella in Pitter e poi ancora, quindi come cerchiamo di essere presenti un po' in tutte le zone della Campania. Su temi importanti oggi parliamo di un tema deontologico, uno dei temi centrali purtroppo attualissimo che è quello della tutela dei minori e devo dire tutti interventi molto importanti perché sono intervenuti anche oltre ai giornalisti, il collega Edoardo Scotti, Rocco Colombo, sono intervenuti anche, c'è un'esperta del centro antiviolenza, c'è un avvocato, come dicevo magistrati e quindi il tema si sta affrontando sotto i vari aspetti. Sono degli argomenti che vanno trattati con grande cautela e anche con grande professionalità da parte dei giornalisti. È chiaro che l'ausilio e l'endorsement di persone come i procuratori Carmene Olivieri, Vittorio Russo, l'avvocato Sebastiano Tanzola e anche l'associazione Aretusa danno un contributo fondamentale ad una discussione che ci vede tutti impegnati nell'affrontare queste tematiche così importanti. A me fa piacere che l'associazione giornalisti del Vallo di Liano abbia abbracciato in pieno questo percorso indicato dal presidente Lucarelli per provare a dare quelle competenze necessarie ai giornalisti anche del nostro territorio nel trattare tematiche così importanti. Il pluralismo è il baluardo di una informazione libera e democratica. Chiaramente c'è limite anche all'informazione libera e democratica, cioè la tutela dei diritti fondamentali delle persone e in particolar modo la tutela dei soggetti deboli, che è una tutela certamente rafforzata proprio a partire da alcune norme della nostra Costituzione. Cioè il minore che è un soggetto debole e uno dei soggetti deboli chiaramente va aiutato nel suo processo di crescita e maturazione e quindi va tutelato più delle persone normalmente adulte. Insistevo sul dire che ci sono da valutare vari aspetti della questione. La legislazione sulla privacy esiste e ho detto e ribadisco che per quanto riguarda i minori è sicuramente rispettata dal codice di autoregolamentazione dei giornalisti in genere, delle testate sia della carta stampata che della televisione. Forse per le fasce deboli, per essi intendendo le donne vittime di episodi di violenza, forse un po' meno e questo trova la spiegazione in questa spettacolarizzazione sempre più accentuata che vi è nella società attuale degli episodi di cronaca nera che fanno molta audience, che fanno molto share e quindi creano particolare interesse, molto spesso anche morboso interesse, nell'opinione pubblica e quindi in questo forse i giornalisti hanno qualche responsabilità che cavalcano l'onda emotiva di questi episodi di cronaca nera che fanno molta notizia.